Niente, hanno lasciato tutto, hanno portato via le risposte, il ladro, quell'infame, ha lasciato un billetto con una gramma al posto della firma di io a pollo snob, a me questa mamma, a me questa mamma ti dice qualcosa, secondo te chi è? La firma dell'altro che ha lasciato una gramma come nome è io a pollo snob, chi è il ladro di supposte? Io a pollo snob, chi è il ladro di supposte? È una gramma, è così, ci ha messo tre ore a dirlo, lo dice, io a pollo Grazie a tutti